Il flash intanto guardi io sono veramente allebito che si dica si generalizzi sempre le persone cioè là dentro c'era 4.000 persone che richiedevano asilo che sembrano tutti delinquenti questo viene da un partito che si è rubato 49 milioni di euro tutti dobbiamo star zitti ma i delinquenti non si è rubato Nessuno 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 si è rubato Duttare le politiche è sempre molto facile per affrontare le questioni No, abbiate pazienza Non possiamo aprire il tema dei 49 milioni di euro No, l'immigrazione ha dimostrato la magistratura Perché tra i fatti e le politiche è una differenza Vi fermo un momento, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo a parlare di quello che è l'argomento di questa puntata l'emigrazione e la sicurezza Tra poco